TOS R.E.U.S., la grande catena di negozi di giocattoli, ha avviato la procedura di fallimento negli Stati Uniti, e in Canada dopo molti anni di crisi di vendite per via della concorrenza soprattutto di Amazon. Il fallimento riguarda solo le operazioni di TOS R.E.U.S. nel Nord America, dove la catena ha 64.000 dipendenti e 1.600 negozi. I negozi rimarranno comunque aperti mentre grazie alla procedura di fallimento la società proverà a ristrutturare i suoi debiti per non dover arrivare a una chiusura. La procedura di fallimento non riguarda i circa 250 negozi con il marchio TOS R.E.U.S. in Europa, Australia e quelli aperti in Asia.